Ciao, oggi sono qui con... Ciao! Oggi va la gente, guardate qua cosa c'è! Allora, adesso chi di voi dice che cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a conoscere un tapiro per diventare amici di un tapiro per salvare il mondo. Però se non mi inquadri! Perché il tapiro è a rischio di estinzione e se si estingue il tapiro, la foresta amazzonica avrà difficoltà a continuare a restare... Tale quale! Il segreto è la cacca! Beh, adesso però vi dico una cosa, se no non si capisce niente. Allora, sono qui con loro perché oggi vado a riprendere per altri e non per me stessa, col mio drone, per la loro pagina invece in creazione ancora. Ma sì sì, canale di YouTube. Canale YouTube che si occuperà di animali selvatici... Comunicazione, comunicazione con gli animali selvatici, come imparare a stare con gli animali selvatici imparando il loro linguaggio, la vita di branco senza domesticarli ma semplicemente interagendo con loro. E lo fa lei. Lei? Lei? Lei è quella che vive con i cinghiali. Da mesi ormai. Ma oggi viverà con un tapiro. E quindi stiamo andando a riprenderla mentre si fa le coccole col tapiro.